Io sono Gabri Costa, in questo Tekken 7 con gli episodi personaggio dobbiamo usare Bob per battere Brian. Ricordatevi che Bob è un ciccione ma è fortissimo quando affronta gli avversari. Mi sembra che il nostro Bob è ancora più forte. Bene, Gabri Costa a questo punto vi saluta. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie.